ciao oggi siamo a piazza tuscolo circondati da macchine traffico di ogni tipo però ormai ci ho fatto abitudine la solita storia per trovare parcheggio in questa zona non ti dico però è andata bene ho parcheggiato in salita c'avevo un po d'ansietta che mi si spegnesse la macchina ma tutto liscio la dacia sopravvive anche oggi oggi siamo qui a grande richiesta guarda un po chi c'è il franchinello oh basta con sto franchinello ma quale carino ma quale carinello ma basta dai ma si ma mi ha rovinato la vita tutta la gente che mi scrive su instagram franchinello carinello carinello franchinello ma è complimento no non è un complimento fa cagare come shrek non so se lo voglio più fare sto video però tu tieni conto che con l'ultimo video che abbiamo fatto avevo chiesto cinquantamila mi piace avevo chiesto cinquantamila quanti sono 28 mila 30 mila quindi più che altro non è che si può penalizzare tutti quelli che hanno messo il like che va nel video perché mi stanno a fare una testa così cosa mangia franchinello quindi ogni tanto mangi pure cioè ti si è di comodo no sempre queste pizze sui muretti con la telecamera posata sui secchi e agli angoli dove la gente ci fa pipì ogni tanto ti si è di comodo ma è sputato sono sana bisogna fare un preambolo come col video dei giangfoli a tavola con mi ha detto io regà non mangio io bevo e quindi l'ho portato a beve fondamentalmente ci sono dei posti in cui io quando magari decido di andare a mangiare vado l'ho messi pure in articolo da repubblica dell'editoriale quindi figurate che sono quattro due ristoranti nel primo episodio e due ristoranti nel secondo episodio perché appunto so quattro oggi se famo santo palato e poi se faremo trattoria pennestri sono contenta questo volevo provare da un po c'è un lista da parecchio il discorso è che non ci si riesce mai a venire a mangiare perché c'hai prenotazioni da qua a una settimana dieci giorni posta pure per me eh oh l'importante è che sto riuscita a prenotare ogni volta sennò mi prenotano i posti buoni regà ci vediamo là davanti regà siamo entrati a lei mi dice sempre Giulia tranquilla tranquillizzati che tanto ci fanno registrare io ogni volta che devo registrare dentro mi sale sempre canza oddio ma ci fanno registrare vabbè però ci hanno detto di sì quindi mo da un'occhiata al menù ma ti faccio vedere guardalo guarda come è impegnato nella ricerca del buon vino ma si mangia si beve pure no una cosa importantissima adesso posto ma anche gli altri che andremo a visitare ci hanno finalmente fortunatamente una carta dei vini molto curata c'è tutta una ricerca e una selezione dei vini naturali bollebone bianchi rossi che fanno una carta dei vini come cristo comanda bello ciotto 60 pagine di carta dei vini che dici c'è l'anno da beve mi fai tagliare perché te salti direttamente la sezione dei calici vabbè ma è immorale ma che ti prendi in calice in calice mo bevo cioè prima che mi arriva al cibo poi che mi bevo dipende perché poi magari esci con amici all'alti non gli va io mi bevo il calice non è che mi posso sconare una bottiglia di vino da sola da sola no ma se almeno sei in due o una bottiglia sono cinque bicchieri ma di che stiamo a parlare praticamente se lo porti a pranzo fuori non te presenta col calice perché poi ci esci più no se tu me fai beve il calice io rosico se io esco con una ragazza se mette seduta prendo un calice di io per me se potremmo curare sì sarziamo via ovviamente cosa mangia franchino c'è l'idea che mangiamo oggi ci stanno pure i piatti del giorno interessante sta cosa mi piace sempre quando ho capito vanno sulla stagionalità degli ingredienti cos'è che stimola le tue papille gustative oggi lo sai mi sembri omer simpson alba tramonto alba tramonto tramonto alba il sole e baci belli non a caso sta a baci a me notte no il sole e baci brutti i belli i baciano tutti mamma mia esuberante bello sì sì va benissimo perfetto quando si apre una bottiglia ma anche di vino non si deve fare rumore regà per tutti quelli che si atteggiano quando sentite se la bolla va bene la bolla non si gira primo piattino polpetta di coda alla vaccinaria levistico e sopra c'è sta un po' di cacao guarda quanto è bello si parte col fritto aprila no vabbè no vabbè c'è si è appannata la telecamera madonna mia che sbampa incredibile vorrei prendere un po' la base un po' il cacao ti come crocca scotta c'è il labbro sporco no levavano fanno vedere quanto fai schifo madonna mia madonna ma che è bello che la coda vaccinaria è una di quelle cose proprio vai sul sicuro provala se non l'hai provata è la cucina tipica romana buono perché si sente proprio che la cottura è lenta e sai che sento pure il limone però non ho avvertito il cacao ti vedo affamata vuoi assaggiare? che ne so ti sto a fare le riprese sono dure che me la sto a guardare sta polpetta e dai io so quando ti mangi questa roba in questi posti e all'altra parte non ci vai a mangiare mentre si gusta la polpettina di coda la vaccinaria è arrivata la frittatina di ricaglie di pollo con uovo bio grazie praticamente quando una cosa è buona le nostre continue espressioni sono che c'ha da dire? che c'ha da dire? io non ci credo stai affasso schifo scusate ma te lecchibia? ma pure questo si paga questo te lo regalano ecco lo limone era qui che arrivava a botta dell'acidità lo stesso pentolino di carbonara di tonnarello è uguale è uguale è la stessa cosa che dentro da quel pentolino lì c'è sta la spazzatura guarda qua qua ci stanno le fiabe dio santo sta cosa è incandescente ho assaggiato ricaglie di pollo più intensa a livello di gusto queste si mantengono comunque tutto sommato abbastanza delicate l'uovo dentro è morbidissimo è tipo una nuvola senti tutto che è croccantino dentro ma dimmi un po' che ti dicono queste rigaglie di pollo ma che c'è qualcosa di quando una cosa è fatta bene questa purea di rigaglie va molto sul sapore del fegatino toscano l'uovo c'ha una bella consistenza una cosa è buona non è buona è buona io so quel tipo di persona che odiano i camerieri perché quando sto a tavola mi viene voglia di capito di creare composizione dei piatti però poi i camerieri hanno il loro ordine è certo quindi io sono quella che vorrebbe aiutare ma poi complica la cosa forse a complicargli che loro c'hanno il suo ordine lui stava aspettando lui stava aspettando che tu finissi il tuo figlio però ti giuro che lo faccio in buona fede poi ci hanno portato così inaspettatamente sta cosa ci hanno detto che guarda che carino il piatto da nonna cioè questo è proprio il piatto che ti arriva che te lo dà a tua nonna e ti dà la raccomandazione e dice Giulia mi raccomando attenta quel piatto che sono schiaggite un po capì quanto vale come sette hanno detto assaggiate e poi e poi vedete ma che è dolce ma che è pare uno strudel però è caramellato e caramellato si è carne ovvio mi piace sai perché che è una cosa estremamente grassa non ti riesco a identificare la metti in bocca senti la croccantezza che mi riguarda la godina della porchetta però dentro si scioglie in bocca ma identifica è maiale si penso che mani è un girello di maiale marinato e caramellato buonissimo molti se lamenterebbero direbbero ammazza guarda questo lago di olio però vogliamo di uno l'olio buono due ma l'olio fa parte da cucinata no e diciamolo ma che farsi dove dà mica lo dovete beve sta là a parte che oltre all'olio c'è la riduzione quindi comunque non è questo l'olio ma poi guardate che colore c'ha questo l'olio guardalo sta qua ti fai pure una scarpetta qui ci stavamo domandando cosa fosse l'indizio che posso darvi è che storicamente era fatto a palla da un tizio figlio di un altro tizio a pelle figlio da pollo ed era proprio quello lo fece a pelle figlio da pollo ma in questo caso non è una palla ma è una palla di pollo pressata cotita con un po di pimentone della vera fatto al forno pressato poi piastrato con salmorillo e fondo di manzo io credo fosse maiale perché era estremamente saporito venire a mangiare la pelle di pollo wow questa è una delle cose che però io prenderei la dividerei cioè capito non è una cosa che mangerei da scuola senti no si è bello però senti questa crosticina guarda come brilla l'altro che gioiello qua ste bollicine dopo a pelle figlio da pollo facciamo parlare di pelle di pollo necessarie necessarie sgrassano puliscono e la vita è bella sono arrivati i due primi ziti alla genovese perché la cipolla che fai insinunato vero che cosa mangia franchinello però franchinello senti a me i ziti ne piacciono parecchio la genovese e lui e vabbè diamo lì immancabile carbonara con tanto di carbotrema la vedo bella cremosa mezze maniche ciò piccoli o carinelle guarda che c'è un carino il guanciale proprio scrocchia se parte tipo un'orchestra nella bocca hanno mantenuto la croccantezza del guanciale ed è perfettamente bilanciata la sapidità ma che te lo dica fa per il mio gusto personale è troppo cremosa deve essere cremosa ancora questa cosa dalla pasta asciutta è buona cosa mangia franchino vabbè ma te posso dire la mia ma te stai comunque sul mio canale abbassa la cresta ziti alla genovese la prima cosa che mi arriva all'olfatto è il pepe spezzatino cotto a bassa temperatura lentamente si può accampare di cipolla secondo te mi piace però se assaggi prima la carbonara questo è quasi scarico perchè te la dovevi mangiare crema però mi si è incollata la carbonara vuoi che assaggiare come fai a dire che senti poco madonna cioè il pallato è bruciato no allora non è messa diventata una food pornara no perchè io ero in genovese ma pure lo spezzatino ho associato delle genovese un po' più incisive sincera devo essere sincera mi è piaciuta è buona però non tra le migliori della mia vita se te posso dire cos'è che c'è che c'è che c'è mangiare la carbochera ma c'è c'è che c'è mangiare le lumache quelle che a te ti piacciono mo andamo a parigi te mangi le lumache rigaie de bollo interiore a cuore fegato mangiate pure le lumache che fai tanto il tradizionalista poi le lumache gli dici te no io lo so guarda guarda che quegli occhi non mentono eh ho detto che non amo la consistenza delle lumache che è un'altra cosa mangiate la genovese no comunque stavano dando una cosa Ale il pavimento ma quant'è tipo casa de zia no è bellissimo c'è una zia che ha vissuto una zia che ci ha avuto una storia trapagliata pure un po' rompi dalle ma zia zitella ma zia zitella ma non volevo dire cioè volevo essere gentile no no petto di pollo coscia di pollo alla braccia e riviena di maiale crema di nocciole questa che vedi sopra è una foglia di ortica tartufo e fondo di cortile che ci diceva che è un insieme di cioè troviamo più che ti diceva lui te l'avevi detto ma te l'avevo detto pure io quando aveva terminato cosa avevi detto del foto di cortile? che è la riduzione? la riduzione dei succhi dei succhi degli animali che sono in laia quindi l'anatra l'anatra il coniglio no voglio ma che voglio mi piace questo contrasto della foglia verde un bel verde mi piace molto il verde boccone imponente piazzato bene e quando è un franchi piazzato niente è partito raga madonna che odore è la braccia eh sì sento proprio l'odore della braccia in bocca questa penso sia la cosa che mi ha sorpreso di più si mangia bene la santo palata finalmente troppo tempo che rimandavo no questa è una cosa da prendere proprio tassativo se ce l'hanno perché molto spesso hanno questa cosa che rinnovano il menù nota positiva come sempre che fai? non concludi con il dolcino? secondo te è artigianale? se questo non è artigianale guarda che è soffice è morbido sembrano le chiappe di un bimbo colore scuretto ah sì perché c'è il grano arzo esatto caratteristica il grano arzo che tra l'altro posso dire una cosa adesso è stato in Puglia no sì se ce l'hai stato hai visto tutto il mondo mi nonna faceva sempre le orecchiette al grano arzo mi piacciono un sacco e si sente quella punta di bruciatura che però non è una bruciatura di quelle amare che te rovina vabbè lo sto sempre a parlare fa passaggio a sto maritozzo per caso è il maritozzo più buono che tu abbia mai mangiato nella tua vita? vuoi che? perdonami se ogni tanto faccio questa cosa è perché sono incredibile non so esprimermi cioè questa è un'altra esperienza non so neanche se lo definirei maritozzo sembra proprio un dolce a parte non ricordo il maritozzo anche con la panna cioè io sabito dai maritozzi dei regoli no? buoni da morire però questa è un'altra cosa a partire dall'impasto proprio maritozzo o mani che mani che te c'è sporcia non è che fai capito che la porchettina anche perché se te ti mettessi a tagliare sta cosa che la porchettina lo uccideresti no ti resta già ma sì ma lo so sì te ci ho portato io a mangiare qua dai su ma davvero non fai sempre sta certo e mani adesso sto maritozzo fammi sapere com'è anche se hai già provato ma lo conosco questo movimento di testa niente è partito ma sì ma di che stai a parlare la panna è capito non è cioè io non so che ci metto grazie ma qui a bocca no ma almeno un po' fa bocca raga ci veniamo fuori le secondi finali vediamo quanto abbiamo speso che qua il franquinano ha iniziato a prendere bollicine ogni volta prendiamo quello prendiamo quello prendiamo quello infatti pago io ciao grazie ciao mettono una multa c'è le ansia c'è il parcheggio che mi scade da dieci minuti poggiamo la fotocamera ma perché stiamo sul canale tuo e non si può far video come dico io no perché proprio perché stiamo sul canale mio com'è che ti siete nei video il canale mio è il vuoto lo scergo io raga abbiamo speso o meglio ha speso perché il franchinello oh ma il video è il mio mi stai a fa pubblicità sul canale mio eh sì ma è una cosa che ti ho chiesto io ma ci ho guardato io da sto video sì ma me lo hanno chiesto tante persone di fa sto video solo che non è che lo devo mettere sul canale mio così autoreferenziale quindi so io che ti ho chiesto lo mettiamo sul canale tuo quindi c'è sta che pago io soprattutto se prendo 40 euro di boccia diciamo 40 euro di boccia quindi abbiamo speso 80 euro senza vino sì in due quindi spendere 40 euro a testa per quello che mangi eh sì più il caffè tutto guano mi è piaciuto camorì soprattutto il frittino di coda alla vaccinara la palla con la foglia sopra quella riduzione sotto riduzione pia della pipiena di maiale comunque li stai vedendo in video quella era pazzesca sì costa pure 26 euro quella tu paghi anche il fatto che richieda del tempo farlo una certa tecnica una ma certo va tutto contestualizzato ma certo assolutamente la camorì è molto buona devo dire Franchine no quello che voglio dire posso fare un po' di polemica posso fare un po' di polemica un po' di polemica io vorrei fare un po' di polemica se può fare perché i food bloggari i food pornari non fanno i loro reel leccati in questi posti qua e nei posti poi che andremo a vedere in nessuno dei posti dove vi porterò sul cosa mangia Franchino perché non ci vanno perché questi posti non hanno bisogno di pubblicità eh certo è perché quindi non gli possono scrocchiare quanto meno non ti dico i sordi ma manco il pranzo perché loro ti dicono paghi bello come pagamo noi vabbè comunque indipendentemente per noi gli serve non li pagano i food bloggari non gli offrono manco il pranzo e quindi ci vengono quindi voi dai food bloggari ai food pornari anche perché poi sono i ristoranti che costano gli devi lasciare una piotta e quindi sti morti de fame che cercano il pranzo gratis non andranno mai a far vedere sti posti qualcuno gli spieghi che questo non è il suo canale e che anche me no va bene si l'abbiamo capito posto numero due dai devo andare a digerir nel frattempo Giulia 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 ma quello è il Merio oddio anche qui Merio ascoltami ascoltaci un Merio in onore del Franchinello tipo non lo so gli fai un tocco di criminale un Merio per loro un Merio criminale un Merio criminale te sbrighi sto in mezzo alla strada di gestione attuata altro giorno è impegnativo questo questi video perché so quattro ristoranti so quattro magnate apprezzate l'impegno un sacco di soldi una cifra perché pagamo un sacco di soldi niente marchette siamo da trattori a pennestri questo è il menù questi sono i prezzi regà noi ci sediamo io direi ci sediamo fuori perché c'è una bella luce dentro io lo vedo un pochettino cupo e non vorrei che la mia sony facesse qua fanno i rigatoni che la pagliata sorella e che sono io per dire di no ciao questo qua è il vino dei miei amici Massimo e Patrizia all'ago di Bolsiena c'è anche Potere Orto di Giuliano che è buonissimo c'è occhi pinti ma hanno parchi coperti loro devo dire ci siamo seduti nel frattempo ci stavano a dire che c'hanno un po' di piatti del giorno sì perché oltre al menù ci stanno pure le proposte del giorno dei mal tagliati fatti con le regaglie di pollo sfumate al vino bianco e carciofi piegatini di maiale avvolti nella loro rete con confettura di visciole e cipolla arrosto io amo trattori a pennestri questa è una dichiarazione d'amore forte è una dichiarazione d'amore forte ma perché è così tutti i posti comunque dove vi sto portando su cosa mangia franchino ci hanno una gran bella selezione di vini ovviamente arrivi al prezzo con il franchinello che fanno prendere il vino l'ortaccio bianco oggi ci beviamo questo dei miei amici di sempre Massimo e Patrizia che stanno dove c'ho casa io in uno dei paesini vicino al lago di Bolsiena ormai da anni producono vino naturale De Cristo perché infatti si trova pure nei migliori ristoranti di Roma si si vabbè lo conosco bene cioè sono capitate annate che ho vendemmiate io di questo cioè hai fatto un video vedi? una giornata da contadino oh te lo lascio qui vattelo a recuperare perché poi la gente sempre capito si annoia a vedere le cose che in realtà poi lasciano qualcosa di bello impari qualcosa questa cantina qui niente a di v eh no perché ce l'hanno stravenduto per i prossimi tre anni pane, pecorino funghi e mentuccia vai di mano ma che è sta cosa? no invece no famo dai l'hai distrutto l'ho distrutto oh vabbè mi sono sbagliato va bene mmm fai di filo fuori tu sei perso il fungo pialo con le mani mettito in bocca pecorino è un pecorino poco stagionato però buono è molto più sostenibile cioè ne puoi mangiare tanto mmm ma perché il funghetto? lo senti come è sodo il fungo scrocchia niente funghetti col blu dammato sono arrivati i rigatoni con la pagliata perché non li prendi rigatoni con la pagliata tipico romano come direbbe il franchinello rigatoni guarda che il franchinello te sta qua davanti io ti faccio le cheat te mi fai le reaction in live manco mi metti il like perché non sono cheat sono scam no perché io cito qual è l'autore vedo un bel pepe sopra pezzettino la pagliata non è gommosa no perché è una cosa che molto spesso è facile non farla non diventare gommosa buonissima i rigatoni belli al dente sono proprio belli dei nazi cioè il turista se assaggiasse sti cosi direbbe mazza sono crudi no no a parte che questo è fatto con cura il sugo era preso ed è molto bene andiamo spieghiamola qualche cosa perché se no sempre se limitiamo è buono non è buono cioè le macellarie di fiducia perché la pagliata che cos'è butella del vitello il problema è che se non c'hai il macellaio di fiducia ti prende le butella del vitello che non è proprio ancora da latte perché praticamente dentro c'è il latte cagliato fondamentalmente se non vado errato loro poi non li legano con il butello della pagliata ma vedete fanno direttamente un nodino con il butello stesso quando e come si mangia una pagliata buona quando il butello è proprio molto fine e si scioglie in bocca praticamente come in questo caso un bel rigatone coltardente sicuramente come hai detto prima di te vai a pranzo col fracchinello metti la firma ecco è una sorta di contratto rigaglie di pollo sempre presenti questi sono i maltagliati con le rigaglie di pollo assaggiamo questi sono incandescenti però mi sa che sono spaziali sto tocco di sedano che ci hanno messo la prima cosa che ti arriva nel momento in cui stai per addentare è il profumo del rosmarino è l'olio buono perché qua ti danno il pane lo portano caldo una scarpettina di olio questi ce l'hanno mandati alla cucina è un assaggio li mandano loro i cannelloni col cinghiale ma assaggi pure questi poi mangio tutto io poi mi prendo tutto ti mando ti do il ricadone che la pagliata e io mi mangio quella roba posso dire una cosa devo fare un commento polemico non so se te condividi ma mi dite perché i ristoranti danno i tovaglioli che non tovagliolano questa cosa di avere il tovagliolo che non è carta che ti resta sporco mi ti ha fastidio ma no ma i tovaglioli di stoffa ma come ragioni è proprio una cosa da matrimonio ma è meglio la stoffa dalla carta ma che stai a dire mi dissocio eravamo indecisi volevamo prenderli ce l'hanno portati senza richiede raga qua sempre chiarezza trasparenza prima scotta no? un po' di beciamella ma una cosa soft che rimane il sapore da selvaggine in bocca il cinghiale è il mio animale preferito per quanto riguarda la selvaggine o me fai di voi per parte il ragù di cinghiale poi se so senza sugo che lo sento ancora di più il cinghiale stai a parlare col boccone in bocca mi sembri in criceto che ha messo la roba dentro le sue sacche guanciali mi diceva la bocca aperta ma perché io devo esprimere subito qual è la mia sensazione se io finissi di masticare poi perderei le sensazioni immediate è una food bloggara ovvero la vedi che fa le espressioni guturiose la mette in bocca e poi fa che subito che buono no sai che c'hanno assaggia prima ma sai che c'hanno i food bloggari quelli lì che fanno i reel c'hanno sta cosa che manco assaggiano e fanno questa cosa con gli occhi questa alzata di sovracciglia tipica qua a me c'hai messo il pane già dalla scarpetta ah si era pronta io lo definirei il piatto d'amore after sex e guardi in faccia quella tua lei e dici oh è il piatto dei martagliati che ricaglia di pollo è lì e poi è amore comunque stai a converti in sacco di gente ai ricaglia di pollo che è una cosa che è ormai quasi morente ingiustamente vi prego provate i scarti della gara e che non la fa più nessuno sono rimasti davvero in 5 aromaffalli senti che te mangi lo vedete sempre legato all'olio questo mi dite che fastidio vi dà nonna qui è orgogliosa poi se vuoi te lo mangi come sto facendo io ma se no no e il pane di postile pane di altamura qua i pugliesi godono questa è pasta fatta da loro è spettacolare anche perché hai visto i miei episodi dei rosticcerie che mi lamentano sempre per questa sovrabbondanza dei besciamella e besciamella scadente comprava al supermercato alla metro può ovviamente oltre che trovare la besciamella fatta da loro cioè c'è il giusto spruzzo del besciamella tra l'altro posso dire una cosa besciamellina fatta in casa con un tocchino di noce moscata oh e dai raga ricordatevi sempre che le pischelle si rimorchiano con la pasta e ceci si rimorchiano con il ricadone con la tagliata si rimorchiano con questo martagliato qua te posso dire ma ce l'avete mai provato fatelo c'è te rimorchico la pasta e ceci hai detto ma io i ceci gli spello una a uno vabbè che gli spelli una a uno però poi poi vedi se succede non se devi far pasta un giorno l'aria poi si confia la panza l'aria e gli dici che gli fai nel momento nell'atto qua i ceci fanno effetto come vanno confia il materassino sull'edito di torvagliare sulla spiaggia questa è la nostra mousse accompagnata da due fette di pane carasau condite olio sale e rosmarino cioccolato ovviamente cioccolato col sale sale maldo sempre presente pane carasau qua si fa un salto in Sardegna si da quant'è che non va in Sardegna dimmi un po' beh ormai sono 7-8 anni a me raga il cioccolato col sale fa un pazzesco senti che roba come si approccia prendi e mari dai quanto è buono poi senti l'olio extravergine alla fine dopo il cioccolato è una cosa che vista così sinceramente non mi diceva molto proprio superficialmente vorranno che paradossalmente l'olio d'oriva crudo col cioccolato mi dice ma ma che abbinamento è invece funziona pensa adesso no un pischello con la pischella after sex si mettono davanti il maritozzo di santo palato è questo è amore per quelli che al minimo ne capiscono magari mi dice la coppia abituata a mangiare il Christmas Mac Bacon da 5,40 5,40 5,40 5,40 raga per 5,40 5,40 raga caffettino per digerire tra l'altro col dolce qua raga c'è c'è successa una cosa un po' drammare presente quando ho capito dopo un pranzo abbondante inizia vabbè vediamo quanto abbiamo speso stavolta ci vediamo fuori con le conclusioni direi guardate dove mi vuole fare fare la conclusione di questo video beh questo posso dire è tributo a cicalone questo è tributo a cicalone guarda le bottiglie il degrado cioè degrado vandalismo abbandono perché diventi in posa sulla conclusione ma chi si è mai messo in posa sulla conclusione ah ma tu hai il mio portafoglio non sai quanto sono in cicalone 14 euro di sconto aspetta cos'è che non ci hanno fatto pagare i cannelloni sicuramente ci hanno fatto il loro il dolce probabilmente magari non l'hanno messo l'amara amara disse che è l'amaro l'amaro sì sì no amaro caffè ok quindi il dolce e i cannelloni ho messo qui l'amaro e il caffè quindi abbiamo pagato tutto ragazzuoli 124 ci hanno fatto un piccolo scontino come sempre massima trasparenza guarda che ha arrodondamento comunque monte dico 14 euro ma 124 120 euro avrebbero fatto magari a tutti ci hanno regalato i cannelloni che ho gradito quell'assaggino di cannelloni come ti sei trovata? Franchinello sa il fatto suo voglio dire per il momento c'è l'episodio 2 partecipazione in questo secondo episodio ah beh sì anche perché mi pare che tu poi mi darei il voto ma certo è un cosa mangia cioè tu mi dai questo onore io voglio il voto io apprezzo profondamente che questa cosa e tu mi abbia scelto voglio il tuo voto e deve essere scepro da sentimento non avrai sentimento voto per come ha mangiato e per come ti ha portato a mangiare ultima precisazione il conto ovviamente c'è la bottiglia di vino quindi è ovvio che se prendete un vino che costa un po' meno un'acqua spendete ovviamente di meno 26 euro 26 euro di vino quindi tu tieni conto magari una persona media che non è neanche abituata a bere la piotta 50 euro a persona 50 euro a testa oh regà questo è un problema perché io non so mai non so mai come conclude i video ma non c'è da concludere c'è la parte 2 quindi ciao c'è sta cosa lui praticamente nei video miei che pie va via mi ha lasciato sola così che io che devo di ragazzoni grazie per essere stati con noi spero vi sia piaciuto questo video che è più che altro un documentario io non so quanto ci metterò a montarlo però mi è piaciuto perché ho mangiato bene sì però voi poi ride dai ma ridi la cosa deve essere felice oh ti devo proprio insegnare tutto adesso va bene sto in mezzo alla strada ma guarda non stanno arrivando a macchina è tutta un po' però è migliorata la posa ho notato che il sorrisino accennato c'è sta no l'ho fatta apposta cioè scusa mi hai detto sorridi io sorrido all'inizio partivi non mi inquadra il naso all'inizio partivi tutto imbruttito oh guarda che io sono gioiosa io mi chiamo franchino il criminale puoi rimanere così altri 5 minuti